L'Università di Trieste conquista il giudizio più alto per la qualità degli studi, la classifica ed è un'agenzia nazionale del settore. Andrea Saule. Pienamente promossa e addirittura al primo posto, anche se in condivisione, l'Università di Trieste incassa un altro giudizio favorevole e accreditata con il grado A molto positivo e un punteggio di 7,61, il punteggio più alto, assieme a Trento tra quelli finora pubblicati e con documentazione più recente. A decretarlo è l'ANVUR, l'Agenzia Indipendente di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, sulla base di una visita di 5 giorni a novembre 2018. Si tratta di un documento che sintetizza in 30 pagine l'approfondita relazione inviata all'Ateneo a inizio maggio e che evidenzia come l'Università Triestina abbia implementato in questi anni un sistema di assicurazione della qualità concreto e credibile. Risultato decisamente eccellente, a maggior ragione se si considera che tra i 15 Atenei accreditati con il nuovo modello, i giudizi positivi sono meno di 10. Significativo anche l'ambito in cui le tre prassi meritorie sono state segnalate. È stato verificato che la visione della qualità dichiarata dall'Ateneo fosse supportata da un'organizzazione in grado di realizzarla, di verificarne periodicamente l'efficacia delle procedure, e in cui agli studenti fosse attribuito un ruolo attivo e partecipativo ad ogni livello. Promossa anche Udine, con una visita più datata e per questo con criteri differenti, guadagna un B pienamente soddisfacente, con 6,52 punti, distaccata nella classifica solamente da Bocconi e Politecnico di Torino.